una breve introduzione su come si usa big blue button il link fornito vi vi porta a un'area di benvenuto non è ancora la conference bisogna inserire un proprio identificativo arbitrario non serve collegarsi non serve autenticarsi e si chiede di partecipare per partecipare col microfono occorre cliccare qui c'è un breve ico test che dimostra che il microfono effettivamente funzioni proviamo funziona funziona ecco ora siamo in in call per rimuovere queste tre aree che possono essere di confusione questa è l'area di di condivisione delle presentazioni basta usare questo in questo bottone per chiudere la public chat e l'elenco degli utenti altre cose basta andare qua in questo momento si è sia tutta l'area disposizione qui verranno mostrate gli altri partecipanti altre cose notevole da considerare si parte muted quindi per cominciare a parlare bisogna cliccare microfono e per condividere alla videocamera questo questo bottone ovviamente andrà autorizzata la videocamera dal browser se non è già stato altre cose per finire per chiedere la parola si può usare raise hand è gentile farlo e per uscire completamente dalla chiamata quindi non solo per ammutarsi o per uscire dalla audioconferenza leave meeting e questo ci riporta direttamente nell'area da cui potremmo eventualmente ritornarne questo è tutto grazie per l'attenzione arrivederci